Sergio Preter sta al vertice dell'autorità di sistema portuale del Marionio. La conferma è arrivata dal ministro dei trasporti dopo il parere favorevole di tutte le istituzioni locali. Queste le prime riflessioni del presidente riconfermato. Sono contento e soprattutto ringrazio tutti coloro sia che hanno partecipato in maniera fattiva al procedimento di nomina, sia quanti comunque hanno supportato la mia candidatura. Abbiamo due linee di sviluppo da seguire. La prima è quella di chiudere il ciclo della programmazione passata e quindi mi riferisco in particolare sia all'ultimazione di alcune delle infrastrutture avviate negli anni precedenti nel porto, ma soprattutto iniziare a raccogliere i frutti delle nuove presenze e delle nuove utilizzazioni di queste infrastrutture nel porto di Taranto, con anche una crescita dei traffici. L'altra linea è quella invece di dare corso ad una nuova serie di iniziative e infrastrutture che sono legate sia al contratto istituzionale di sviluppo, e quindi mi riferisco alla stazione Ex Torpediniere, piuttosto che al Distri Park o anche allo IAD Belleli all'insediamento di Ferretti, ma anche per esempio alla collaborazione con il Comune di Taranto per la riqualificazione del waterfront.